L'arrivo della stagione invernale con il conseguente aumento della probabilità di precipitazioni riaccende ai riflettori sul grado di sicurezza del fiume Salso. Ad essere carenti sono i sistemi di allerta oltre all'assenza di opere di messa in sicurezza. Abbiamo verificato che lungo il corso del Salso non è presente nessun rilevatore elettronico in grado di segnalare l'innalzamento del livello delle acque fluviali. Come si ricorderà, lo scorso 2 febbraio il livello del Salso si alzò parecchio anche per effetto dell'apertura delle dighe dopo le piogge cadute copiose in Sicilia. Anche allora, per l'ennesima volta, apparve necessario un intervento di bonifica e messa in sicurezza del fiume così da essere pronti nel malaugurato caso di una piena. Passata la paura, però, tutto è tornato come prima, con il fiume nuovamente abbandonato al proprio destino. Abbiamo contattato l'Ufficio Comunale di Protezione Civile, che però in materia di gestione del fiume Salso ha un ruolo limitato. A breve contiamo di intervenire quantomeno per evidenziare l'innalzamento del livello del fiume. Ci hanno fatto sapere fonti interne all'ufficio. Tinteggeremo le aste graduate dei piloni, così da avere sotto controllo il livello del fiume e la sua eventuale crescita. La competenza è però soprattutto regionale e dovrebbe essere l'assessorato territorio e ambiente ad espletare gli interventi di cui necessiterebbero, ad ogni inizio di stagione invernale, i corsi d'acqua che passano all'interno delle città. Abbiamo inoltrato, come facciamo puntualmente ogni anno, prosegue l'Ufficio di Protezione Civile, le richieste di pulizia e bonifica agli enti interessati. Le competenze sono soprattutto di altri enti. Il nostro ufficio si occupa per lo più di interventi in situazioni di emergenza. La segnalazione dell'innalzamento del livello del fiume rimane però una priorità che esaudiremo a breve. L'ICATA, dopo l'ultima elaborazione dei piani di assetto idrogeologico stilata dalla regione, è stata classificata come R4, cioè al massimo livello di rischio alluvioni, dissesto idrogeologico e frane. La presenza del fiume Salsu all'interno del territorio comunale è chiaramente una minaccia da tenere in grande considerazione.